Tocco con il destro, soluzione vincente con il mancino e inizio ripresa quando Andrea Saraniti fa gol e regala la vittoria al team Altamura nel testa coda contro la Cenerentola Santa Marecilento, giocato al D'Angelo. Successo più sofferto del previsto, è vero, ma missione ugualmente compiuta. Non siamo riusciti a sbloccarla questa partita perché se l'avessimo sbloccata già dall'inizio, in primi dieci minuti forse potevamo vedere un'altra partita, sicuramente non onestamente una sofferenza, gli ultimi venti minuti abbiamo sofferto un po' perché poi anche siamo palati un po', ma soprattutto a livello mentale perché reggere tante partite, stare sotto pressione con l'ansia che dobbiamo per forza vincere, vincere quindi è normale, capisco anche i ragazzi, però hanno dimostrato di avere carattere e di lottare fino all'ultimo minuto. Un gol, quello di Seraniti che vale tre punti, che a loro volta valgono tantissimo per la classifica, troppo importante per i Murgiani replicare con un successo alla sconfitta di Martina, troppo importante in questo momento dare precedenza alla sostanza rispetto alla forma. Noi non possiamo pretendere il bel gioco a sette partite alla fine quando dobbiamo vincere il campionato, a noi interessa soltanto il risultato, quindi ben vengono queste partite di sofferenza, quindi vuol dire che ti fa capire che è un campionato dove nessuno ti ha regalato niente, quindi se siamo lì è perché ce lo siamo meritati. 17esima vittoria in campionato, più otto pareggi in 28 incontri e soprattutto per il team Altamura, sette punti di vantaggio custoditi sul Martina a sei giornate dal termine. Murgiani in campo già giovedì, come tutte le protagoniste del Gironi H di Serie D per il turno pre-pasquale, l'undici di Domenico Giacomarro, giocherà in trasferta il derby contro un Fesano a cui mancano davvero pochi punti per archiviare la pratica salvezza diretta, fisco d'inizio al Vito Curlo, previsto alle ore 15.30. Siamo pronti per la prossima gara a Fasano e man mano che andiamo avanti, le partite sono sempre di meno e cercheremo di riportare a termine questo campionato come ci siamo prefissati dall'inizio di campionato.